Domenica 11 marzo si disputa la 29esima giornata del campionato di eccellenza regionale di calcio. Il Fertilia, terza forza del torneo, ospita al Mariotti e all'ora 15 il San Luri, decimo alla pari con Castiadas e Muravera, e reduce da una sconfitta casalinga all'inglese subita per mano del Pula. L'undici di Mister Paba invece ha sbancato per 2-0 il campo del Valle Doria. All'andata il Fertilia si impose a San Luri per 2-0. Nello stesso campionato è in programma il match tra Castelsardo e 1945 Alghero. I ragazzi di Mister Calvia, dopo la vittoria interna di misura contro il Calangianus, hanno rinsaldato la loro quarta piazza e vanno a far visita ai castellanesi, tredicesimi alla pari col Carbonia e bravi a bloccare sullo 0-0 di partenza il Taloro Agavoi. Nel match d'andata, disputato al Mariotti, gli algheresi vinsero col minimo scarto. Passiamo agli altri sport che nei loro campionati di vertice questa settimana osservano un turno di pausa. La Mercedes San Paolo Alghero, dodicesima nel girone nord del campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile, dopo il doppio meno 20 subito, tornerà sul parchè del Palacorbì a sabato 17 marzo, alle ore 19, contro il Delser Club Udine. Sesto in classifica, assieme alla Serna Vivar Marghera. All'andata, le friulane si imposero 60-44. Il girone 2 del campionato di Serie A di rugby tornerà invece in campo domenica 25 marzo e per la Novaco Alghero sarà tempo di derby regionale sul manto erboso dell'Amatori Capoterra. Quarto, con una posizione e tre lunghezze di vantaggio sul 15 di Roldan, che all'andata vinse 25-17. Nello scorso weekend, Novaco Amatori Catania 28-26 ed Autosonia Vezzano Amatori Capoterra 14-39.